Signori, buon pomeriggio a tutti e benvenuti qui al Palazzetto dello Sport, sito sul Campo Goni ad Avellino. Siamo qui per il solito appuntamento con il Calciacinque, Serie C1, girone unico campano. Cussa Avellino imbalutato come non mai e ha bisogno dei tre punti, anche se quest'oggi gara ostica con il Futsal Parete. Tutto è pronto al centro campo, guardiamo il nostro Gladio, ha le presse con la monetina. Stare attento, attenzione a Killer, cerca la solita imboscata, se ne va queste volte tutto in sinistro. Amici, c'è una volta spaziale, dubbio e basso, limante a funghi, qui siano lui, Killer, gara da fiore, 1-0 per i Cus. E Goccio di Novalcini per i Futsal Parete, già non capito nulla, non ci hanno capito. Ottimamente subisce anche il fallo, ma chi te lo dà, il sesto non esiste. E proprio alla fine, un regalo contentissimo qua sotto, Pantaleone, che gli ha dato il regalo natalizio. E c'è l'uno pari, non diamo il fallo, giustamente all'ultimo secondo. Lombardi, come nelle sigle finali, quelle di spettacolo puro, parte Lombardi. Lombardi, il nostro garanziere, gara da infarto, parte Lombardi, amici, Lombardi, la giustizia è divina. E come disse Cimabue, va bene pure in 3-2. Questa è una gara da mandare agli annali. Non ci possiamo fermare qui, con Capannello. Vi salutiamo realmente, ebri e contini ubriachi di Cus Avellino.